Ciao a tutti, finalmente per martedì prossimo riesco a fare una ricetta attesissima e precisamente gli Oreo o Oreo, ancora non è chiaro quale sia la vera pronuncia, fatti in casa. Per realizzarli avrete bisogno dei seguenti ingredienti. Per l'impasto vi serviranno 50 g di cacao amaro in polvere, 70 g di farina di tipo 00, un cucchiaino di lievito per dolci, un pizzico di sale, 50 grammi di burro, 20 ml di olio di semi, 100 grammi di zucchero bianco, 30 grammi di zucchero di canna, un cucchiaio di caffè e un tuorlo. Mentre per il ripieno vi serviranno un foglio di gelatina più 15 ml di acqua a temperatura ambiente, in più altri 25 g di zucchero con altri 30 ml di acqua, poi vi serviranno ancora 25 g di zucchero a velo, 50 g di burro, altri 20 grammi di zucchero e una fialetta di essenza di vaniglia. Io qui con l'essenza intera userò un cucchiaio. Se volete preparare con me gli Oreo non perdetevi martedì prossimo il video. Un bacio a tutti, ciao ciao!